Sono Domenico Modesto e sono coadjuvante familiare, quindi marito di Emanuele Acriniti che è la titolare dell'azienda. L'azienda agricola si chiama Pensa, così come l'agriturismo Pensa, alleviamo capre e picce da latte e tra adulte e caprette sono circa 60 capi. Abbiamo due vacche cabannine e facciamo un servizio di ristorazione, ora in questo momento solo la domenica, con circa 25 coperti, si sono ridotti e produciamo formaggio.